Da oggi il personale delle volanti della Questura e del nucleo radiomobile dei Carabinieri dell'Aquila sarà dotato del taser, una pistola di impulsi elettrici che si aggiunge agli equipaggiamenti già previsti. Un progetto ministeriale partito nel 2018 e perfezionato nel tempo per dotare il personale di quest'ulteriore strumento di difesa. L'introduzione del taser sarà graduale e richiede un particolare addestramento. Il taser è qualificato come arma preopria di difesa non letale, che agisce attraverso impulsi elettrici in grado di bloccare momentaneamente il soggetto colpito. Tecnicamente la pistola di impulsi elettrici è un'arma in più che i poliziotti hanno in dotazione proprio per la loro sicurezza. Quindi viene data una scarica in caso di necessità che porta 50.000 volt con un bassissimo amperaggio. Non è assolutamente letale ma serve semplicemente a bloccare per qualche secondo l'aggressore. Parliamo di non più di 5 secondi perché è il tempo massimo dopodiché l'arma si scarica. Ecco, diciamo che è uno strumento prezioso dal vostro punto di vista che rende il personale più sicuro. Ovviamente c'è una formazione da fare. Voi come siete messi da questo punto di vista? Certamente è necessaria una formazione con personale tecnico specializzato. Dura una settimana un corso di alta formazione per poter abilitare i poliziotti che solo dopo una verifica potranno utilizzare quest'arma in servizio. Come ripeto, è un'arma fondamentale per la loro sicurezza quando ci sono particolari situazioni di gravità dove gli aggressori non sono semplicemente a mani nude ma anche con delle armi bianche magari quindi mettono in particolare difficoltà il poliziotto che può in alcuni casi non utilizzare la pistola. Ma non tutti sono stati d'accordo con l'introduzione del taser con queste tempistiche. Ad esempio il sindacato dei Carabinieri Unarma a livello provinciale aveva chiesto il rinvio dell'introduzione di questa pistola perché a loro giudizio ancora troppo poco il personale è opportunamente formato.